L'odierno sistema del free market assoluto si caratterizza oltretutto per quella che in più occasioni ho definito la deeticizzazione. Con questa espressione intendo essenzialmente il fatto che l'odierno assetto post-borghese del capitalismo, affinché tutto si riconfiguri come merce disponibile sul mercato, deve sciogliere, annientare, annichilire tutti i residui valori del mondo etico-borghese, essendo questi ultimi, con la sintassi hegeliana, potenze etiche che ponevano in primo piano la comunità solida e solidale e più in generale tenevano a freno la bestia selvatica, come Hegel la chiamava, del mercato diremmo oggi deregolamentato. Nel sistema dell'eticità hegeliano, momento culminante dello spirito oggettivo, il mondo etico delle potenze etiche è quello che essenzialmente garantisce la piena realizzazione di tutti e di ciascuno nel quadro di una comunità con centralità dell'ethos comunitario, dove ognuno può realizzarsi nel quadro di una comunità di liberi uguali. Per questo la famiglia costituisce il primo momento genetico della comunità e lo stato etico in Hegel rappresenta il culmine. Contrariamente a ciò che viene detto in maniera ampiamente fuorviante, in Hegel lo stato non è un'entità oppressiva e totalitaria, ma invece il luogo di piena realizzazione degli individui nel quadro di una società con diritti sociali garantiti e con pieno e libero sviluppo di ognuno in quanto tale. Ecco, l'odierno capitalismo post 1989 per realizzare il proprio concetto e quindi per diventare pienamente corrispondente in actua sé nella società realmente esistente, deve non soltanto annientare le tradizionali forze proletarie, intese come coscienti di sé, antagonistiche, ancora con la sintassi hegeliana poi metabolizzata da Lukács come in sé per sé. Deve, con movimento sinergico, annientare anche tutto il vecchio mondo valoriale borghese basato sull'eticità in senso hegeliano, cioè su quei valori etici, le potenze etiche, le radici etiche che, come suggerisce la metaforica stessa delle radici, danno radicamento, solidità, stabilità e appartenenza condivisa dalla comunità. Deve dissolvere tutto questo di modo che resti solo lo spazio aperto, l'open space del sistema dei bisogni, diremmo con Hegel, della globalizzazione dei mercati spoliticizzati ed eticizzati, dove cioè non vi siano più istanze comunitarie solide e, appunto, solidali, ma vi sia soltanto il gioco infinito del libero scambio mercatistico, l'insocevole socievolezza di kantiana memoria come sola possibile forma di aggregazione di individui monadici, diremmo con Hegel, che nel sistema dell'atomistica globalizzata si relazionano tra loro come atomi consumisti che mirano unicamente al proprio dot-des personale, che cercano l'altro non perché animali comunitari, ma semplicemente perché tali da mirare ognuno al proprio tornaconto individuale. Ecco, in questo quadro si capisce, ben si capisce, il dispositivo in atto di annullamento di tutti gli enti etici e comunitari ancora sussistenti, dalla famiglia liquidata come intrinsecamente sessista, paternalista e omofoba, fino allo stato etico come compimento della potenza disciplinante della politica che tiene a freno l'economia e la pone al servizio della comunità umana e del bene comune. Passando naturalmente per quegli enti intermedi, quei corpi intermedi che Hegel chiamava le potenze etiche, il sindacato, poi ancora la scuola pubblica, la sanità pubblica, tutti gli enti che diremmo in generale bene comune e che appunto stanno letteralmente annientandosi nel quadro della globalizzazione privatistica tramite categorie sacralizzate dalla neolingua come quella di competitività, privatizzazione, efficienza del sistema operativo e mercatistico e così via. Ecco allora che per reagire a tutto questo occorre innanzitutto e incondizionatamente rivalorizzare fortemente gli enti etici o, se volessimo usare la lingua impiegata da Hegel, reagire all'ateismo del mondo etico riconquistando l'eticità e quindi ponendo l'accento e valorizzando quegli enti etici ove ancora superstiti che ci permettano di reagire alla dinamica sradicata e sradicante dell'economia di mercato deeticizzata, che tutto il mondo riduce a un piano liscio, omogeneo e uniformato di atomi consumisti secondo l'algida geometria del Dohdes. A questo occorre reagire valorizzando, ripeto, gli enti comunitari a partire dalla famiglia come comunità basata sull'immediatezza del sentimento fino allo Stato che è il momento della massima riconquista e dell'eticità mediata, consapevole e riconquistata. Da questo punto di vista Hegel continua a mostrarci la via e si pone a tutti gli effetti come un pensatore borghese e anticapitalista e di più anticapitalista oggi proprio perché portatore di una valorialità borghese che comunque la si voglia intendere è incompatibile con il capitalismo dell'onnimercificazione oggi pienamente dispiegata.